Gli ha esortati a non arrendersi, ad andare avanti con l'importante lavoro sociale che da 40 anni svolgono. A parlare l'arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna, ieri sera a Paternone, la chiesa di Santa Margherita, per festeggiare i 40 anni del consultorio familiare Il Cammino. Il consultorio, nato nel 1983, è stato voluto da Don Luigi Luggisi e ancora oggi è un punto di riferimento importante per le tante famiglie che si rivolgono alla struttura. Il consultorio è infatti centro di ascolto per coppie in crisi, ma anche per persone che stanno affrontando un particolare momento di difficoltà nella loro vita e centro per i corsi prematrimoniali. Nel tempo è stato anche riferimento per tanto altro, grazie al lavoro di professionisti che gratuitamente hanno donato il loro tempo come avvocati, psicologi, ginecologi. Il consultorio fa parte del centro per la promozione della famiglia ed è ospitato nei locali accanto alla chiesa di Santa Margherita. E Monsignor Renna, arrivato a Paternone, ha prima celebrato una santa messa in ringraziamento di questi 40 anni. Presenti tra gli altri il clero paternese quasi al completo, il sindaco della città, Nino Naso, i familiari di Don Luggisi. Al termine della celebrazione, Monsignor Renna ha poi ascoltato dalle parole della ginecologa Lucia Ciravolo un sunto dell'instancabile lavoro portato avanti in questi 40 anni di servizio. Al fianco di Monsignor Renna c'erano la presidente del centro per la promozione della famiglia, Barbara Caruso, e l'animatore spirituale, Donna Salvatore Ali.